Tracey Gouldin ricorda quei giorni di quattro anni fa, quando lei e il marito comperarono a Dublino la casa dei loro sogni. Non lo so perché, me ne sono semplicemente innamorata, forse per l'aspetto, per la zona in cui si trovava, era bellissima. C'era il campo da gioco per i bambini in fondo alla strada. Stava per diventare un bel posto per viverci. Avremmo avuto i centri commerciali, le biblioteche, i bar, i ristoranti e tutto, ma naturalmente questo non si è realizzato. La casa però continua a piacermi, ma non so, penso che dovrei rinunciare, purtroppo. Rinunciare alla casa dei sogni. Una scelta che i Goulding devono prendere in seria considerazione con loro un numero crescente di proprietari di casa irlandesi, perché la casa che avevano acquistato durante gli anni del boom economico ora vale poco più della metà di quel che l'avevano pagata. Nel 2006 avevano pagato 460.000 euro, adesso sono fortunati se ne incassano 280.000 euro. Non potevi immaginare. Anche quando stavamo comprando questa casa, la banca voleva darci più soldi di quelli che chiedevamo. Si sentivano spot alla radio di rappresentanti del governo che dicevano che era ancora il momento giusto per comprare. E anche quando cominciava a girare qualche piccolo dubbio, il governo rassicurava tutti. Diceva investite nell'immobiliare, non esiste nessun problema con il mercato né con le banche. Quindi avevamo fiducia. Funzionava. Io guadagnavo bene, Tracy lavorava, il suo stipendio bastava pagare mutue bollette e ci restava un bel po' per goderci la vita. Ma poi sono arrivati i problemi, ho perso il mio lavoro, i soldi sono diventati pochi e abbiamo cominciato a sentirci strangolati. Michael e Tracy avevano acquistato la casa in un quartiere completamente nuovo, Belmain Park, nella periferia settentrionale di Dublino. Da quando il motore economico irlandese ha cominciato a perdere colpi, sia i costruttori che le banche sono rimasti senza soldi. Le promesse sui servizi nel quartiere non sono state mantenute, una casa su tre è rimasta vuota. Michael, un elettricista, ha perso il lavoro due anni fa all'inizio della crisi. Oggi il sussidio arriva appena a 54 euro a settimana e il mutuo è di 1.600 euro. La sua moglie, contabile, hanno ridotto lo stipendio. Hanno due figli. Non so, siamo abbastanza contenti di abitare qui, ma tutta questa crisi pende sulla nostra testa. Se avessimo deciso di traslocare, probabilmente non avremmo potuto vendere la casa, perché sta in un quartiere che non è stato completato. Detto questo, la parte completata è carina, d'estate i bambini vanno al giardinetto a giocare, a loro piace vivere qui, ma è chiaro che se volessimo vendere sarebbe difficile trovare un acquirente in questa situazione. Belmain è uno dei cosiddetti quartieri fantasma. Ce ne sono altri alle porte di Dublino, progetti lasciati a metà, simboli tristi, di un boom economico rimasto senza aria. Oggi le stime parlano di 300.000 appartamenti rimasti vuoti, l'eredità degli anni in cui il governo, banche, società immobiliari lavoravano mano nella mano per rimodellare il panorama di questo piccolo paese di 4 milioni di abitanti, progetti rimasti senza copertura e ora agli irlandesi viene chiesto di pagare. Siamo a Charlestown, vicino all'aeroporto di Dublino. Ken O'Connor, muratore, lavorava qui tra il 2007 e il 2008. Quelle gru sono lì da due anni, non si sono mosse da lì. È tutto fermo qui, non succede niente. Secondo O'Connor, il prestito da 85 miliardi di euro dell'Unione Europea del Fondo Monetario per salvare le banche è peggio che criminale, soprattutto per i disoccupati come lui. Non è fattibile, stanno semplicemente prendendo ancora denaro in prestito per coprire altri prestiti. Non sono un economista, ma so fare due più due e mi pare che si ha già più delle capacità dimostrate finora dal nostro Ministro delle Finanze. Dall'inizio della crisi il Ministro non ha azzeccato una previsione, le ha sbagliate tutte. Ci ha detto che sarebbe stato il prestito più conveniente della storia, invece è il più caro e ha praticamente chiuso il percorso europeo. Proprio la paura di una brusca fine del progetto europeo, o piuttosto di una crisi dell'euro, ha portato a questo prestito, con un tasso di interesse del 6% e l'imposizione di una manovra finanziaria fatta di tagli di spese ed aumenti di tasse. Sulla carta non sono pochi quelli che lo considerano un suicidio economico, un piano per tenere la tigre celtica in ginocchio per anni. È molto rischioso, ma non c'era alternativa, se si tiene conto delle condizioni in cui si trovano sia le banche che il governo e quel che pensano economisti come Brian Lucey. Il problema che abbiamo tocca contemporaneamente le banche e il governo. Abbiamo un problema di spesa pubblica, perché spendiamo circa 50 miliardi di euro e ne entrano solo 31 di tasse. È insostenibile. E l'altro problema è ovviamente bancario. Abbiamo avuto il peggior collasso bancario mondiale e le perdite delle banche sono state coperte dal pubblico nel 2008. Le due cose insieme sono insostenibili per lo Stato. Una sola si poteva risolvere, ma le due insieme no. Mentre il governo copriva i mutui tossici delle banche che avevano finanziato progetti commerciali e immobiliari, un costruttore si è impegnato a completare ciò che aveva iniziato. Johnny Owen ha realizzato un quartiere di 45 case a Malingar, a un'ora da Dublino. Lo ha completato dal maggio 2008, appena prima della crisi. Anche se è riuscito a vendere solo 4 delle case, è tenuto in vita il quartiere senza l'aiuto delle banche. Da gennaio ha venduto altre 16 unità immobiliari, perché le vende alla metà del prezzo iniziale. Il suo debito è enorme. Sembra che ora tutti stiamo lavorando in perdita e ho paura che molte altre società stiano andando a sbattere contro il muro nei prossimi 6-8 mesi. Probabilmente anch'io. Aziende che chiudono. Disoccupazione al 14%. Per Johnny, come per molti irlandesi, l'ingiustizia sta nel fatto che i responsabili della crisi non siano mai stati considerati colpevoli del sacrificio di una generazione. Perché non sono in galera i banchieri che hanno causato questa situazione? Che cosa è sbagliato? Ci hanno distrutti? Ci hanno tolto il lavoro? L'hanno tolto anche a chi lavorava con noi? Hanno seppellito le generazioni future, probabilmente 3 o 4 generazioni, coperte da una montagna di debiti. Dovranno lavorare molto, molto duramente, per un periodo lunghissimo e per stipendi da fame. Lavorare molto, per guadagnare poco, non poter finire di pagare il mutuo per coprire le banche. Per molti della cosiddetta generazione sacrificata, l'ultimo a lasciare il paese dovrà spegnere la luce. Nelle prossime settimane seguiremo un seminario per emigrare in Australia, perché a quanto pare lì c'è ancora lavoro per gli elettricisti come me. Mi dispiacerebbe molto partire, dispiacerebbe a Tracy soprattutto. Lei non vuole andarsene. Io andrei soltanto per tornare a guadagnare qualcosa e provvedere alla mia famiglia. È terribile il fatto di non poter fare nulla, di non avere la possibilità di provvedere alla tua famiglia. È qualcosa che colpisce davvero la tua autostima, la fiducia in te stesso. E se si arriva a quel punto io parto. Avrei poche esitazioni a ridare le chiavi alla banca e dir loro di vendersela alla casa. I dati dicono che entro la fine dell'anno un proprietario su sette non sarà più in grado di pagare il mutuo e si stima anche che oltre 100.000 irlandesi emigreranno nel corso del 2011. Dati che spingono molti a pensare che il panorama economico irlandese subirà smottamenti per anni, così come quello dell'Europa di cui l'Irlanda è parte integrante.